Salve a tutti amici del canale di Arbe82, buon pomeriggio, finalmente ritorno a fare un video, era un po' di tempo che non facevo nessuna recensione sul canale, so che non ve ne frega niente ragazzi, però io l'ho detto. Allora amici, dato sì che tra pochi giorni ci sarà una bellissima live sul canale di AVK Studio, dove si parlerà dei Transformers Babers e anche G1, ho colto l'occasione di farvi vedere quest'altro fantastico modello Leader Class di Optimus Prime, della Hasbro del 2009, direttamente dal film Babers di Transformers Ravage to the Fallen, la vendetta del caduto. E niente ragazzi, guardate qui, ragazzi, questo è l'Optimus Prime versione Movie, che io, anche se sono un amante G1, l'ho apprezzato, cioè mi piace molto, anche se il design, come sappiamo, è totalmente diverso, però il camion è, cioè c'è il camion, l'importante è questo. E niente ragazzi, guardate qui, che bello questo modellino, che bella action figure che facevano una volta la Hasbro, ragazzi. Guardate qui, questo sì che è un vero Leader Class, non come i nuovi Leader Class che stanno sfornando nei tempi moderni, che ci fanno pagare pure un futtio di soldi, e sono molto più ridotti come dimensioni, rispetto a questi vecchi modelli qua, ragazzi. Questo c'ha 13 anni, è del 2009 questo modello qua. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino, guardate qua ragazzi, è pesantissimo ragazzi. Ecco qui, guardate il bellissimo musone del nostro Optimus Prime, si vede il logo Autobot, vedete al centro il colore rosso, guardate qui tutti i dettagli, le fiammate, ci vedono tutti i bulloni della carrozzeria, ecco qui ragazzi, guardate, vedete la portiera qui, ecco qui, anche qui c'è la portiera, si vede, c'è lo scout, ecco qua ragazzi, guardate qui. Qui secondo me si può mettere anche un bel trailer di un masterpiece, non lo so, sinceramente è che non ce l'ho, il rimorzione. Qui è l'alloggio delle batterie perché c'è una gimmick elettronica che dopo vi faccio sentire. Ecco qua, questo e quest'altro lato. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il parabrezza qui che è totalmente trasparente, si vedono gli ingranaggi all'interno, potrebbero farlo di plastica scura, no? Un vetro scuro. Vabbè, comunque, questo è, le gomme sono in plastica. Il disguise del robot di Optimus non si vede tantissimo. E niente, la gimmick elettronica è fatto così ragazzi perché pesa. Eccolo qui, c'è questo tastino qui che pigiandolo fa questo suono qui. Non so che suono sia però, e si illumina anche di rosso, vedete? E niente, ecco qua, ecco qua, è sempre una chicca in più ragazzi, eh. Ma guardate qui, è veramente un bellissimo modello per me, eh. E niente, c'è un po' di polveretta, vabbè, che ce l'avevo esposto. Ecco qua, faccio un'altra girellata così, manuale. Eccolo qua. Il nostro Optimus, ragazzi, è bello in tutte le saste, secondo me. Se è il Transformers più amato, secondo me. Ma non perdiamo tempo ragazzi, perché adesso lo trasformiamo insieme. E inizia la guerra, eh, che io sono un po' negato con le trasformazioni, come sapete. E niente, ci vediamo tra tre secondi. Qua, ciò, tre. Pronti, partenza, via, ragazzi. Allora, come prima cosa, stacchiamo questa parte qui, dove ci sono le marmitte, facendo un po' di pressione. E uno è andato. Eccolo qui. Numero ad uso. Ecco qua, ragazzi, vedete? Formando questa sorta di ali. Ribaltiamo questo pezzo qui. Questo qui. Le marmitte girano così. E questo peg qui. Va inserito questo buco qui. Et voilà. Ripetiamo lo stesso con questo. Ed eccolo qua. Poi Poi Questa parte qui Va Mettersi così E Si ribalta In questa maniera qui Mettendolo Questa posizione qua E' uno E' due Così E dopo Ritorniamo Con questo pezzo qui Così E' così Ragazzi Detto che inizia la guerra Ecco qua Questa maniera qui Poi dopo Ritorniamo Con questo La parte posteriore qua Ed eccolo qua Poi Stacchiamo questa parte Avanti delle ruote Avanti delle ruote Qui Ecco qui Ecco qua Così E Così Una parte esce Un'altra parte non esce Ecco qua Ecco qui Così Poi si stacca Il musone Diventa più o meno Così Poi 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 Questa parte qui I parafanghi Si Chiudono In questa maniera qua E qua Ecco qui ragazzi Ibaltando Un po' La facenda Qui Facendo molta Attenzione Eccolo qui Mettiamo così E Voila Ecco qui ragazzi Guardate qui Che bordello Allora Poi Scusate che Questo è lo spazio Modellino abbastanza grosso Poi Stacchiamo Queste due parti Che vanno a formare I piedi Ecco qua Una parte così Una parte così Questo Si mette dentro così Si ribalta così E questo Va così Stessa cosa Con questo Questo così 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 E E Wow Così Questa Maniera qua Ecco qui E questi sono I piedoni Nel nostro Optimus Che Mitch Mad Mitch Amatando Vediamo così Ragazzi Questo qui Non ho capito Perché Ah Questo si mette così E poi Si mette così Questo Così Questa parte Qui Si ribalta Così Va incastrato così E Si gira un po' La ruota Di questa maniera qui Questa va così E si mette così E la ruota Va un po' Così Et voilà Poi 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 Vediamo un po' Ho alzato un pochettino Il telefono Perché Il nostro Optimus Sta diventando Veramente Enorme Ed eccolo qui Poi Queste qui Le ribaltiamo Così E Le facciamo girare In questa maniera Dietro la schiena Per il momento Aspettiamo un attimo Aspetta Questo qui Si ribalta così E Così E sentite qui Si sente Non si sente? Ecco qua Qui E questa è la schiena Del nostro Optimus Prime Adesso Passiamo Alla parte Anteriore Vediamo un po' Allora Apriamo Stacchiamo Questa parte E qui 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 Ci sono questi Serbatoi Mi devo ricordare Ragazzi Che qui Non è niente di Preparato Stacchiamo Il tutto Così Stacchiamo Così Va così Facciamo così Tu Si è staccato Sto pezzo qua Un attimo Pezzo Di agganciato Facciamo così Mettiamo Questa parte Fuori qua Questa parte Fuori qua E per il momento Lo alziamo Così Qui c'è Il testone Del nostro Optimus Prime Come l'ha ripetuto Eccolo qua Poi 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 Vediamo Un po' Questa parte Qui E le braccia Si ribalta Così E vanno In questa maniera Qua E si mette Di così Poi Qui Si deve Da fare Questo movimento Qui Si alza Questa parte Qui Si gira Così Si aggancia Nella spalla Lì Questa Qui Si alza Così Questo Si gira Così Questo Va All'inzu Così Questo E Il primo Braccio Che Si sta Componendo Dovrebbe Essere Più O Meno Questa Maniera Qua Però Io Non mi trovo Ah Ecco Qua Così Eccolo Qua Mettiamo Qui Sono bravo Come Crazy Collector A trasformare Ragazzi Facciamo Così Stesso Magheggio Di prima Piano Piano Questo È Un Punto Delicato Ragazzi Così Così Si gira Il braccio Così Questo Sportello Qui Così Mette Così Alziamo Questo Pezzo Qua Vediamo Così Si gira Così E Il Braccio Sinistro Qui Dove Vai È pure Completo Io ho capito Che ti chiami Ottimo Spray E Questa Parte Qui Ho Inserito Qui Finalmente Allora Adesso Che Qui Volevo Arrivare Ragazzi Mettiamo Questi Ginocchieri Così Allora Ragazzi Arrivati A questo Punto Finalmente Era tanto Che non lo Trasformavo Perciò Io Già Sono Negato Però Questi Cosi Complicati Peggio Ancò Allora Arrivati In questo Momento Qui Dove Adesso Dobbiamo Abbassare Diciamo Il Pettolario Optimus Che ha Questo Modello Qua Deve Fare Attenzione A questo Passaggio Vedete Qui Allora Ci Ci sono Questi Peggio Qui Vedete Questo Pirulino Rosso Qui E Quest'altro Qui Che si Devono Inserire In queste Fessure Qui No Fate Pianissimo Ragazzi A Inserirle Perché Va a Finire Che Si Spaccano Infatti Questo Peg Qui Ho Molta Paura Di Inserirlo Perché Un pochettino Andato Allora Inseriamo Questo Così Questo Va Così Allora Vedete Qui C'è Anche La Molla Ecco Poi Vedete Fate Pianissimo Perché Ragazzi Veramente Vedete È Uno Così È Andato Questo Qui Così È Uno Questo Qui È Andato Adesso Questo Qui Che C'ho Paura Devo Fare Molta Attenzione Apriamo Così Inseriamolo Piano Piano Perché Ho Una Paura Fottuta Ecco Qui Ragazzi Meno Male Ragazzi Meno Male Che È Andato Ed Ecco Qui Il Nostro Optimus Prime Dovrebbe Dovrebbe Essere Finalmente Pronto All' All'azione Ragazzi Adesso Inseriamo un po' Così Vediamo un po' Se Manca qualcosa Qua ci sono i peg Vanno inseriti Questi qua All'interno All'interno Qua Se Li Vedo Ah boh Appoggiamoli Così Adesso Quero Questo Qua Questo Qui Ed Eccolo Qui Ragazzi Mamma mia Che Faticata Mattia Di Crazy Collector Secondo me Si sta Storcendo Da Nervoso Eccolo Qui Ragazzi Finalmente Completata La Trasformazione Del Nostro Optimus Prime Movie 2009 Nella Vendetta Del Caduto Ragazzi Eccolo Qui Ragazzi Ma guardate Qui Allontano Un po' Guardate Qui Che Leader Class Che Facendo Come ho detto Prima I Leader Class Di una Volta Adesso Ce li Sognavo Ragazzi E' Veramente Fantastico Ragazzi Questo Può essere Un Giocattolo Per Bambini Ma io La Cioè La Somiglianza Con E' Veramente Fantastica A parte Queste Due Parti Rosso Qui In mezzo Ai piedi Vabbè Però Guardate Qui Ragazzi E' Fantastico Questo Modello E' Super Articolato Ragazzi Ed è Fantastico Guardate Qui Non so Se adesso Focalizza Qui Nella parte Centrale C'è il logo Autobot Vedete Si Si vede Poi Abbassando Questa Levetta Qui Come Si è sentito Per mezz'ora Ogni volta Si fa così Vedete Eccolo Qui Però Vedo Qualcosa Che a me Ricordo Che Una volta Si Si Azzaro Queste qua Vabbè Comunque Ecco Qua Il nostro Optimus Prime Il nostro Optimus Prime Ecco Qua In tutto Il suo Splendore Ecco Qui Ragazzi L'ho Messo A posto C'erano Queste Due Parti Qui Delle Portiere Che Non Avevo Messo All'infuori Ma Erano All'interno Ecco Qua Ragazzi Veramente Fantastico Non Si Può Proprio Dire Niente Ho Andato Qua Che Magnificenza Poi Ragazzi Trasformare in camion C'è Quell'effetto sonoro Qui Trasformare in robot mode C'è Effetto sonoro Del nome Ma ci sono anche Delle Gimmick Ecco qui Che Speriamo che funzionino Premendo questo Tasto Qui All'interno Della Avambraccio Dove Funzionare Così Ecco qua Funziona Magnificamente E1 Con le sue Classiche Spade Ecco qua E2 Ecco qui Ragazzi Il nostro Optimus Prime Movie 2009 Con le sue Spade Ecco qua Andate Guardate Che figata Ragazzi Veramente Spettacolare Stiamo Così Ecco qua Ecco qua Ragazzi Guardate qua Bellissimo Questo Transformers Eccolo qui Adesso Le Li metto All'interno E Voilà Vi faccio Dare Un'altra Occhiatina Al nostro Bellissimo Leader Degli Autobots Eccolo Qui Fantastico Ragazzi Allora Amici Sono Giunto Alla Fine Di Questa Videorecensione Voi Chiedete Mi Chiedete Perché L'ha Messo Lateralmente E Per Mettere Al suo Fianco Il Classico Optimus Prime G1 Ragazzi Passato E Siamo presente Tra virgolette Perché Adesso C'è Il nuovo Stile Il nuovo Optimus Prime Di Rise of Beast Che è Molto simile Al G1 Finalmente Ragazzi Richiamando La live Di lunedì Sera Da VK Studio Voi Quale Versione Preferite Di Transformers Di Transformers Ragazzi Il Bayverse Eccolo Qui Con Lo stile Totalmente Rivoluzionato O I Classici G1 G1 Gli anni Ottanta Ragazzi Eh Quale Preferite Sicuramente La nuova Generazione Preferisce Lui Anziché Lui Per la nuova Generazione Lui Optimus Prime Lui No Ma per I vecchietti Come me Lui Ragazzi Anche se Adoro Questa Versione Come ho detto Prima Però La versione Classica Ragazzi Non si batte Non si batte Per me Eh Anche se Mi piace Il Nuovo Restyling Ragazzi Fine Del video Se volete Iscrivetevi Al mio canale Arb82 Mi fa piacere Lasciate un commento Fatemi sapere Cosa ne pensate Di Questa Action Action Figure Del 2009 Del film Dei Transformers E Niente Se volete Mettete un like E Bo Ragazzi Ci vediamo Lunedì sera Di ripeto La live Di Avk Studio E Bo Ragazzi Un saluto Da me Arb82 E dal Medico Optimus Prime Arrivederci B Grazie.